SIGLA Papà, pensi che avrò molti figli? Spero che darai a me e a tua madre tanti nipotini. Mi servirà una moglie, quindi? Sei ancora giovane. Non devi avere fretta. Non ho fretta. Ma se la conoscessi di già... Prima devi imparare a essere un Mejai. Oh, Tuoret, l'ippopotamo che cammina. Signora della nascita, è la dea della fertilità e del parto. È padrona dell'orizzonte, colei che ogni anno porta la piena del Nilo.